Oggi Elena Stanghellini ha presentato la propria candidatura al rettore dell'Università di Perugia. Paolo Pianigiani. Punta all'innovazione, ma con una continuità di governance. Il programma di candidatura al rettore dell'Università di Perugia, illustrato oggi alla stampa dalla professoressa Elena Stanghellini, docente di Statistica alla Facoltà di Economia. Con un occhio attento ai giovani del terzo millennio, ormai prossimo all'Università, per intercettarne aspirazioni ed esigenze, e l'altro ha la possibilità di raccogliere risorse preziose per rafforzare la qualità formativa, la professoressa Stanghellini ha fatto riferimento a due elementi che costituiscono il punto di forza dell'Università di Perugia. Si tratta del potenzialità offerte dall'apporto delle persone che lavorano all'interno dell'Ateneo e dal contesto territoriale in cui opera un'Università che deve essere pronta alle sfide che la attendono negli anni ormai prossimi. Università oltre i confini è la parola d'ordine che si è data alla candidata Stanghellini per sottolineare la capacità di andare al di là delle barriere di qualsiasi tipo e rafforzare un'identità ben riconoscibile nel paronama nazionale ed europeo. Le università del futuro dovranno essere in grado di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali, studenti da tutto il mondo e soprattutto di formare partenariati strategici con altre istituzioni al di fuori dei confini. Da qui nasce la mia idea, la mia visione di un'Università in grado di estendersi oltre i confini geografici. Tuttavia quando parlo di confini non mi riferisco solamente ai confini geografici ma anche ai confini fra aree disciplinari. Uno dei punti cardine del mio programma sarà l'interdisciplinarietà, l'attenzione all'innovazione.